Pacchetto numero 22 Benvenute nell'ufficio dei consigli di Natale Io sono Margherita, esperta di regali Sempre pronta a trovare un sogno nel pacchetto per tutte le bambine che amano il mondo Disney Frozen e le principesse Disney Come me È arrivato un messaggio Da bambina mi emozionavo guardando il ballo della Bella e la Bestia Vorrei un regalo per far rivivere la stessa emozione a mia figlia Flavia Pacco pacco del mio Natale Ecco un regalo perfetto per lasciarsi emozionare Con le magie della Bella e la Bestia Asbro rivivi il momento del ballo Ascoltando la canzone originale del film E in più la bestia si trasforma Vedere i personaggi danzare sulle note della magica canzone Vi farà condividere un momento indimenticabile Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao Pacchetto numero 23 Ciao Margherita La mia amica Letizia è sempre solare Come Anna di Disney Frozen Ti viene in mente un regalo adatto a lei? Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per Sboggiare un sorriso da manuale Con lo spazzolino elettrico Oral B di Disney Frozen Lavarsi i denti diventa un gioco da favola Con questo regalo Letizia potrà divertirsi a mantenere il suo sorriso Candido come Olaf E splendente come i ghiacci di Arendelle Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao Pacchetto numero 24 Mia figlia Laura prova sempre a trasformare le zucche in carrozze C'è un regalo che possa aiutarla? Pacco pacco del mio Natale Ecco il regalo perfetto per l'incantesimo far avverare La carrozza Ravensburger di Cenerentola è una novità Un puzzle in 3D che si trasforma proprio come una zucca Però senza l'aiuto della fata madrina Con questo regalo Laura vedrà la magia diventare realtà E potrà giocare ad andare al ballo senza temere l'arrivo della mezzanotte Ecco qui Desiderio Express in arrivo Ci vediamo al prossimo sogno nel pacchetto Ciao Pacchetto numero 25 Ciao Margherita Oggi il sogno nel pacchetto è il tuo Auguri dalla tua sorellina Giulia Giulia ma sei tu? Pacco pacco del mio Natale Apriamo insieme questo regalo speciale Wow Giulia grazie Passare il Natale in famiglia è il vero sogno nel pacchetto Non potevo ricevere il regalo più bello Buone feste a tutti Auguri